La risposta del sottosegretario Milone all'interrogazione del parlamentare piacentino Foti lascia pochi dubbi. Inevitabile un'ulteriore contrazione dei reparti, tra i quali anche il cinquantesimo stormo, la cui chiusura è prevista entro il 2015. È una necessità ineludibile la riduzione della flotta Tornado che sarà accentrata sotto un unico polo al sesto stormo di Ghedi in provincia di Brescia. Dunque ancora una volta l'incerta storia dell'aeroporto militare piacentino a terra su un letto di spine. Tra un paio d'anni lo spostamento del Tornado sembra certo e il conseguente trasferimento di gran parte delle 800 persone attualmente presenti. Un brutto colpo per l'economia della zona come sottolineano i sindaci. Da un punto di vista culturale, da un punto di vista sociale, da un punto di vista anche intellettuale poi fanno parte e si integrano perfettamente con la realtà economica e sociale e culturale del paese. Comunque è una ricchezza da tutti i punti di vista insomma, perché non dimentichiamo che le centinaia di persone che ruotano attorno al aeroporto rappresentano poi anche un volano economico. Certamente l'apporto economico che danno, la spesa anche quotidiana, la vita di tutti i giorni li portano nel paese. Quindi il paese insomma vorrei cercare di far crescere San Giorgio anche numericamente, quindi non vedere andare via persone che comunque poi vorrei anche sottolineare la qualità delle persone, anche questi ufficiali che probabilmente ci lasceranno ci lasciano un vuoto. L'aeroporto sui nostri quattro comuni è la realtà, chiamiamo l'azienda, l'azienda che occupa più dipendenti. Quindi ci sono 800 persone che lavorano giorno dopo giorno nella nostra struttura. Se dovesse chiudere per il territorio rappresenterebbe una grave perdita sia economica e sia anche soprattutto di persone. Io penso che noi sindaci saremo uniti in questa lotta e vorremmo che anche, come forse hanno già fatto, anche i nostri parlamentari, i nostri rappresentanti nella regione siano uniti per andare avanti, per poter difendere quello che abbiamo da tanti anni. In realtà l'assenza di voli non significa chiusura della base, rimarrebbe un presidio, il personale verrebbe ridotto a circa 200 persone, tutte impegnate, si fa per dire, a mantenere viva la struttura. Si ripeterebbe quanto già avvenuto nel 1973, come ricorda uno dei sotto ufficiali dell'epoca, ora in pensione, con casa a San Giorgio, Sebastiano Nicolosi. Io sono uno di quelli che ho vissuto la chiusura nel 1973, infatti già allora mi piange il cuore sentire che si ripete perché so cosa si passa. Infatti che cosa succede? Nella 1973 poi per parecchi anni l'aeroporto si spense? No, si spense, sì, è diventato comando aeroporto, poi è diventato, per la NATO sembra aperto, che è un aeroporto nato comunque questo, sembra aperto. Però non funziona più di fatto? No, di fatto non funzionava, era un distaccamento aeroportuale che era diventato. Poi dopo ha fatto il senso inverso e è ricresciuto, distaccamento aeroportuale, comando aeroporto, cinquantesimo stormo. Intanto in paese la notizia viene vissuta in maniera contraddittoria e c'è anche chi pensa che lo spostamento dei voli non sia un problema. Per me tanto qua non è che di in commercio... No, non c'è uno scambio. No, non vedi, qua a Vieri non se ne vedono, per il traffico sì. Cioè? Cioè il traffico che vanno forte quando vanno a lavorare così, quello lì sì. Tre militari bocche cucite, come questo sotto ufficiale appena rientrato dall'Afghanistan. Il villaggio azzurro nel centro di San Giorgio ospita circa 250 persone, tutti familiari dei militari di San Damiano. Sappiamo il lavoro dei nostri mariti, quindi li seguiamo dovunque loro vadano. Lei è qui da tanti anni? Dieci anni. Insomma sarebbe comunque... Beh, uno ha stabilito delle amicizie, il lavoro, le proprie radici, quindi siamo bene a Piacenza. Grazie. 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 Grazie.